Ehi, nothing you can say, because it's gonna trade what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Porca troia, porca troia, nave nave, nave nave, 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 no, 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 è già andato lì, è già andato lì, è già andato lì, mi sono staccato ma, quindi, quindi, no, è molto grave, è uguale, è uguale, vabbè, andiamoci, Vado, mi butto giù subito, se è proprio rubo la corazza viola, se la faccio, ovviamente no, ma io ce la vado alla armi, non mi pare che ci sia nessuno, non so, non so Landlock, per la merda, ah, alla fine siamo tutti sulla nave, sì, ma non c'è nessuno degli avversari, no, come no, bene, oh cazzo, Dove, dove, dove? Fate due A Puglia Su verra Andrea Corazza d'oro, vabbè Com'è che gli ho fatto 126? Ah, con la granata Eh, la granata Vostra? nữa, mia 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 Ok, mi storni a lasciare il vostro almeno Fine? Fine? No, no almeno non mi pare c'è un portale qua portale, portale diamo lo cazzo forse qua dentro si da passi no beh 50 secondi fa però avevo visto una lifeline beh, hanno respawnato io sono la mia ultima hanno respawnato la dove eravamo non ne vedo e c'è la vicella ci stanno battagliando hanno tutti dei scudi di merda non sta messo male un'andata due andate eccolo che mi spara due giù una giù una ma stava arrestando si adesso verranno verso il coso no, ci stanno fightando ecco, c'è quello là che c'è la corretta viola la vuoi subito miraggio ovviamente la vuoi una terra se non ho visto male eccolo lì gli ho fatto tanto danno bungalow occhio da destra fate granate vuoi lanciar me ne vuoi una te me ne vuoi una te sopra eh sopra eh la mingua è sopra eh aia 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 è one shot qua fuori sopra sopra direbbe eh lo so questo è vivo buono è per uno qua è per uno qua e va bene fanculo ti prendo il cazzotti sarebbe sono dietro io e ma da sopra mi mira da sopra mi mira soprova a sparare subito il fumo cazzo cazzo ha restato ha restato eh ha usato la vulca ho visto andare per un secondo one shot one shot ho la corazza d'oro io eh vado da Kimi no no ma vado io e te eh devo prendere la corazza d'oro io ah si si vai si 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 ammazzano ma almeno quello almeno quello si 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 son qui son qui son qui ma è Kimi con la Mozambique che devi fare il full team adesso se lo faccio guarda capire Andrea sono in tre sono in tre mi spacco tutti giù rebe giù 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 sono sinistra eccolo là eccolo là è ganato un'andata bungalore è sempre la sinistra non ho granate eccolo lì io in ok ok Che bella partita Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao